Questa mattina a Pozzuoli e Giuliano in Campania i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli nei confronti di tre giovani di Pozzuoli, tutti vicini ed ambienti legati al clan Longobar di Beneduce e Gemone in area flegrea. In particolare il provvedimento scaturisce dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a seguito di una segnalazione ricevuta dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli nel corso di un controllo per la repressione dei reati ambientali presso un cantiere nautico di Licola di Pozzuoli. Dalle successive indagini condotte dal citato reparto unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli è emerso come il titolare del cantiere nel mese di dicembre 2020, a ridosso delle festività natalizie, avesse ricevuto una richiesta estorsiva di 2.000 euro da destinare alle famiglie dei detenuti, a fronte della quale, in esito alle pressioni e intimidazioni ricevute, aveva versato una prima rata da 1.000 euro per ottenere in cambio la protezione del sodalizio criminale. Le richieste, rivolte direttamente alla vittima, erano state effettuate dagli indagati regandosi perso il rimessaggio o talvolta dando appuntamenti presso altri punti, come per rimarcare l'area di influenza del gruppo. I due sono stati arrestati e ristretti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre al terzo è stata notificata la misura del divieto di mora nella regione Campania.